Quello lì era un... Vai! Fino ai fiori. Vai, vai pure. Sì, tiri senza correre. L'importante è non correre. Vai bene. Vai, chiamala, chiamala. Chiamala bene. Dobbiamo ancora quella strategia di qui. Possiamo provare anche a fare la cosa difficile. Però la devi tirare, Federico. Ok. Adesso state andando assieme. Adesso siete assieme. Puoi provare la cosa difficile. La cosa difficile qual è? Cos'è fare la cosa difficile? Fare la scala e entrare. Perché a loro non piace. Che c'è? Vai, chiamala. Una. Chiamala. Una. Oh, porta fuori il bidoncino. Vai, vai. Luna. 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 Ecco, fino in fondo che voglio vedervi andare assieme, poi la metti a manzare come tutti i bravi asinai, però prima di lasciarla dobbiamo dirle che è stata brava e cosa gli devi fare per fargli capire, fargli delle belle carezze. Nel collo, forte, ecco che è arrivato anche Chanel, ok.